Buonasera a tutti, questa sera in primo piano il ciclismo, è stato un fine settimana davvero entusiasmante, abbiamo visto la grande vittoria di Vincenzo Nibali nella Milano Sanremo e pochi giorni prima un valteinese protagonista dove alla Tireno Adriatico abbiamo con noi questa sera il nostro ospite Nicola Baggioli. Buonasera Nicola, giovanissimo pensato ha compiuto i 23 anni proprio il 19 febbraio scorso e ha con sé un importante riconoscimento, la maglia verde, il miglior scalatore in questa importantissima corsa a tappe. Prima di tutto le emozioni che hai provato Nicola durante la Tireno Adriatico per te il secondo anno da professionista. Sì sono state grandi emozioni, prima della partenza non mi aspettavo di conquistare questa maglia, poi pian piano visto una volta che l'ho indossata non ho più voluta togliere quindi ho lottato fino alla fine per conquistarla. Diciamo che hai vinto 7 gran premi, hai totalizzato 600 km di fuga durante questa importante competizione. Sì per vincere la maglia da Tireno bisogna andare in fuga quindi appena si abbassava la bandierina dovevo scattare e cercare di beccare la fuga giusta e poi ogni GPM era una volata contro i miei avversari per riuscire a fare il massimo dei punti. D'altro gara davvero di altissimo livello vinta dal polansco Kwiatkowski e c'erano davvero i migliori anche perché poi è servita questa Tireno Adriatico per testare un po' le forze in campo. Sì la Tireno Adriatico è sempre una gara di primissimo livello, una delle più importanti in preparazione delle grandi classiche quindi tutti i ciclisti più forti si ritrovano in questa corsa. Ci sono anche interessanti aspetti statistici guardando proprio alla maglia verde che tu hai conquistato nel 2014 l'aveva vinta il tuo compagno Marco Canola e nel 2013 addirittura Damiano Cunico che è il tuo capitano. Sì entrambi l'avevano vinta e mi hanno dato qualche consiglio su come potevo gestire le energie e conquistare la maglia. Quando hai capito che poteva essere tua? La quinta tappa quando ormai era mia matematicamente quindi devo solo portare la bici all'arrivo, ho capito che era mia davvero. Un commento anche su quello che abbiamo visto sabato, questa Milano Sanremo con un finale davvero mozzafiato. Sì Nibali ha fatto davvero un numero, ho sentito i miei compagni che l'hanno corsa e mi hanno detto che c'era un vento contrario fortissimo. Sul poggio era davvero forte quindi per fare un'azione così bisogna andare davvero forte. Nibali si è dimostrato che è un grande campione e è riuscito a vincere anche quella. In questo momento tu sei all'interno di una squadra davvero molto importante, internazionale, italo-giapponese giusto? Sì, la mia squadra è metà giapponese, metà italiana, abbiamo sette corridori che sono giapponesi e anche lo sponsor principale è giapponese e anche lo staff è metà giapponese, metà italiano. Dobbiamo legarci un po' tra diverse culture. Ma noi torniamo all'inizio, torniamo a Lanzada perché Nicola è lanzadese doc, papà Roberto giusto va avvicinati al ciclismo perché come ben sapete sono due fratelli Nicola e Andrea. Raccontaci gli inizi, i primi colpi di pedale. Inizio, ho iniziato con l'alpin bike qua di Sondrio a fare mountain bike, poi sono cresciuto, ho deciso di, nella categoria junior, di provare sul call strada al Ciccicam Turino e da lì ho iniziato con la strada e sono sempre andato avanti con quella. Le tappe più importanti, quelle che sono state un po' lo snodo della tua carriera fino a questo momento, quelle che ti hanno fatto capire che potevi essere pronto per il professionismo? La dilettante, quando ho iniziato a vincere alcune gare tra dilettanti e ho sperato quindi di poter patassare professionisti e quindi di poter praticare questo sport come mia professione. Grande scalatore e ovviamente qua le montagne non mancano. Qual è il tuo modello Nicola guardando ai grandi scalatori del passato o anche di oggi? A chi ti ispiri? A chi ti piacerebbe essere? Non mi ispiro a nessuno in particolare, no. Cerco di guardare tutti i campioni e di imparare qualcosa da tutti. Dietro queste importanti tappe della tua carriera c'è tantissimo sacrificio. Raccontaci anche un po' allenamenti, quanti chilometri si macinano ogni anno per essere a questi livelli. Sì, quando avevo la scuola era molto più dura perché dovevo fare entrambe le cose e quindi i sacrifici erano molti di più. Adesso fortunatamente vado solo in bici quindi ho più tempo per allenarmi e per ogni attimo della giornata concentrarmi su quello che devo fare. Sia gli allenamenti, l'alimentazione, vari particolari che sommati tra loro possono fare la differenza. Guardando al 2018, dopo l'Atlino Adriatico, che cosa ti attende? Quali sono i prossimi appuntamenti? Il giovedì inizierà la settimana internazionale Coppie Bartali, poi andrò insieme a alcuni miei compagni a ritiro sull'Etna per preparare il Giro del Trentino. Immagino che come ciclista professionista il sogno nel cassetto sia partecipare al Giro d'Italia, magari qua in Valtellina. E' solo mio partecipare al Giro d'Italia, purtroppo sia quest'anno che l'anno scorso la nostra squadra non è stata invitata quindi dovremo rimandare questo appuntamento agli anni prossimi. E tanto proprio quest'anno passerà in Balmalenco il Giro Rosa, il Giro Femminile. Sì, il Giro Rosa fra la crono scalata e l'anzata a Campomolo. Cosa ne dici di quella salita visto che la conosci sicuramente? Ma non la faccio spessissimo in bici, però è una salita molto dura e lunga. Chi ti è stato vicino, ovviamente oltre a papà Roberto che è stato il vostro primo sostenitore? Sicuramente i miei genitori che hanno avuto molta pazienza con me, mi hanno seguito molto, mi accompagnano alle gare, mi aiutano agli allenamenti. Anche mia mamma ha molti sacrifici nel cucinarmi le cose adeguate per la mia alimentazione. Poi ogni direttore sportivo che ho avuto mi ha sempre dato grandi consigli e da ogni persona ho cercato di imparare qualcosa. Si parlava prima dei tuoi capitani, Damiano Cunego, uno sport individuale, il ciclismo, dove però è importantissimo il gioco di squadra, dove è importantissima la strategia durante la gara, durante la tappa. Sì, il ciclismo è uno sport di squadra, individuale ma di squadra, perché il risultato alla fine lo fa una persona, ma se lo fai è grazie al lavoro di tutta la squadra. Infatti ci sono le tattiche, devi essere sempre aiutato dai compagni o per magari andare alla miraglia a prendere una borraccia o per essere aiutato per fare una volata o prendere una salita più avanti possibile. Quindi il lavoro di squadra è fondamentale e posso dire di avere dei compagni che mi hanno dato una grande mano nel mio primo anno e anche quest'anno che sono secondo anno. Infatti i miei compagni più esperti mi hanno insegnato il mestiere, tanti trucchi del mestiere. E di Andrea cosa possiamo dire da fratello? Per adesso sta andando molto bene, la strada è ancora lunga quindi deve continuare a lavorare così e i risultati arriveranno. Potremmo avere due bagioli professionisti? Cosa ne dici? Spero di sì, penso di sì, vedremo. Ci sono buone speranze insomma. Sì, sì. Nicola grazie per essere rimasto con noi, complimenti ancora per questa importante affermazione, questa maglia verde alla Trinodriatico e speriamo appunto di rivederci con altre maglie e altri trofei. Ci proverò, grazie. E dal ciclismo passiamo allo scialpinismo, davvero buonissime notizie, arrivano dallo scialpinismo grazie ai nostri Michele Boscacci e Robert Antonioli che hanno vinto la Pierra Menta, la classicissima dello scialpinismo mondiale. Un'affermazione importantissima per Michele e per Robert. Un risultato che va al loro è successo, con il secondo posto nella giornata conclusiva, con il tempo totale di 9 ore e 57 minuti e 54 secondi. I valtenesi in evidenza anche nelle categorie giovanili, con fra le junior il successo di tappa e di competizione per Giulia Murada e poi fra i cadetti l'affermazione terzo posto per Simone Murada e Rocco Baldini che era appunto in questa categoria. Parliamo anche di Short Track, ci spostiamo in Canada a Montreal con i mondiali di Short Track. C'era la finale di staffetta con le nostre Arianna Fontana, Martina Valcepina, Cecilia Maffei e Lucia Peretti, le ragazze che ci hanno regalato grandi emozioni con l'argento olimpico a Pyeongchang, purtroppo squalificate nella finale A della rassegna iridata, quindi nessuna medaglia per le nostre ragazze. Sesto posto complessivo nella prova individuale dei millimetri per Martina Valcepina. E ora parliamo di basket in serie C-Silver, doppio brindisi per la Pezzini-Morbegno, il primo per il ritorno alla vittoria a Olginate, il difficile campo della Calozio-Corte, alla Sirena 78 per i gialloneri, 67 per i caloziesi, punti pesanti in chiave salvezza. Secondo brindisi per festeggiare coach Gianfranco Cicciobusica, così celebrato a 500 panchine con la formazione morbenese. In serie D, vittoria e prova di carattere della schiena generale, che ha avuto la meglio su Pescate, 73 per i ragazzi di coach Caponetti, 65 per i lecchesi, ora Sondrio, a 4 punti di vantaggio sulle quinte in classifica, quindi buone le chance di partecipare ai play-off. Era l'ultima notizia, noi ci vediamo alla prossima con tutto Spor, non mancate!